Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video sul Creo Parametric 11. Questo è un video dedicato ad utenti di livello principiante e parleremo dell'assemblaggio, ovvero dell'ambiente di assieme, dove si vanno a creare appunto dei complessivi costituiti da diversi componenti che possono essere sotto assiemi o parti. Vedremo diciamo quelle che sono le prime informazioni, i primi comandi per muoversi agilmente all'interno di questo ambiente. Però come al solito prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale. Per creare un assieme dobbiamo ovviamente creare un file, quindi basta fare nuovo, si sceglie come tipo di file l'assieme e si lascia come sottotipo quello selezionato di default, ovvero il sottotipo progetto. A questo punto possiamo tranquillamente andare a definire un nome del file ricordandoci sempre che in Creo i nomi dei file non possono avere né spazi né caratteri particolari. Quindi in questo caso scriviamo assemblaggio underscore con underscore Creo. Clicco su ok per confermare la creazione del file e quindi entriamo nell'ambiente assemblaggio. Ovviamente ci viene proposto un assieme vuoto che presenta soltanto i piani di riferimento che vediamo anche nell'albero del modello. I piani vengono identificati come la SM right, la SM top e la SM front, dove ovviamente la SM sta per assieme o assembly in inglese. L'interfaccia utente è sostanzialmente molto simile a quella degli altri ambienti che abbiamo visto fino adesso, quindi modellazione solita e modellazione in lamiera, ma ci saranno sicuramente dei comandi leggermente diversi come possono essere il comando assembla molto utile e il comando crea utilizzato meno frequentemente ma comunque importante. L'esempio che andremo a fare in questo video è un esempio di assemblaggio molto basilare che mi serve principalmente per insegnarvi quelle che sono le basi dell'assemblaggio all'interno di Creo. In realtà ci sono tecniche diversi per progettare assieme anche molto complessi e ne vedremo sicuramente più avanti in altri video. Quindi qui ci concentreremo su quelli che sono i comandi appunto basilari. Come vi dicevo prima l'interfaccia utente è molto simile agli altri ambienti che abbiamo già visto così come anche la movimentazione del modello è sostanzialmente la stessa. Quindi con lo zoom andiamo a fare con la rotellina andiamo a fare uno zoom out e uno zoom in girando la rotellina in avanti o indietro. Col tasto centrale tenendolo premuto andiamo a fare una rotazione del modello che avviene intorno al centro di rotazione ovvero lo spin center se questo è acceso ma se lo spingiamo la rotazione del modello avverrà intorno al punto in cui abbiamo cliccato col tasto centrale sullo schermo. Poi se premiamo shift e il tasto centrale del mouse e muoviamo il mouse otteniamo uno spostamento del modello parallelamente allo schermo nelle varie direzioni. Ovviamente abbiamo sempre il ctrl d, ovviamente abbiamo sempre il riadatta, abbiamo l'orientamento normale al piano o a una superficie che andiamo a selezionare, abbiamo la possibilità di scegliere degli orientamenti predefiniti ad esempio l'orientamento frontale piuttosto che quello da sinistra e abbiamo anche gli altri movimenti di uso meno frequente che sono ctrl tasto centrale del mouse movimento verticale del mouse otteniamo uno zoom più graduale oppure ctrl sempre tasto centrale del mouse premuto movimento orizzontale del mouse otteniamo una rotazione che avviene intorno al punto in cui abbiamo cliccato e che tra l'altro ci evidenzia anche un'avvenuta rotazione di 90 gradi evidenziando il rosso quel pallino che vediamo al centro di quella sorta di cursore diciamo. Ok iniziamo subito ad assemblare un oggetto come vi dicevamo è un oggetto in realtà molto semplice che è molto simile a un giochino per bambini ma ripeto didatticamente molto efficace a mio avviso. Quindi andiamo a fare assembla e quindi qui vediamo i file che ci interessano possiamo anche cliccare sul tasto anteprima per vedere i file e anche navigarli in 3d li possiamo anche selezionare in questo modo possiamo vedere anche una loro miniatura andando con il cursore nel nostro mouse sul simbolino sull'iconcina che rappresenta il tipo di file ma possiamo anche da viste scegliere di vedere le miniature cosa che probabilmente è molto comoda ingrandisco un po' la finestra e in questo modo capiamo immediatamente di che cosa si tratta inoltre va bene in questo caso non vediamo i disegni perché stiamo assemblando un componente che deve essere necessariamente tridimensionale quindi i disegni sono esclusi però possiamo filtrare i file in base alle loro caratteristiche possiamo decidere di vedere solo gli assiemi oppure solo le parti possiamo anche fare una ricerca dei file soprattutto se abbiamo ne abbiamo tanti digitando una parte del nome del file che ci interessa quindi in questo caso digitando chill ovviamente mi mostra solo il file del cilindro e quindi queste sono tutte funzionalità con cui è bene prendere dimestichezza per essere un pochettino più veloci nella ricerca del file e nella comprensione di che cosa si tratta allora per fare un assieme normalmente si assembla per primo il componente su cui poi devono essere vincolati tutti gli altri e in effetti è quello che faccio in questo caso prendo questo oggetto qui il cubo lo apro e questo componente mi viene mostrato all'interno del mio ambiente mi viene mostrata poi la funzione posizionamento componente che è sostanzialmente lo strumento con cui vado a definire i vincoli del componente che sto assemblando quando porto un componente all'interno del mio assieme questo mi viene mostrato di colore viola questo colore sta a rappresentare il fatto che non c'è nessun vincolo come indicato da questa finestra di stato quando il componente non è vincolato in realtà lo posso muovere rispetto all'assieme anche per facilitarmi il lavoro successivo cioè quello di definire i successivi vincoli che serviranno a bloccarlo in una certa posizione come posso muovere questo componente? in realtà ci sono due tecniche una più moderna rappresentata diciamo da questo trascinatore 3D o 3D dragger questo trascinatore 3D mi consente di trascinare il componente nelle tre direzioni fondamentali di ruotarlo intorno alle tre direzioni fondamentali e anche di spostarlo rispetto ai piani fondamentali ma anche di trascinarlo con maggiore libertà attraverso il centro del 3D dragger nel trascinatore 3D appunto e questa è la prima tecnica il trascinatore 3D normalmente è visibile ma possiamo anche decidere di spegnerlo qualora ci dia fastidio a volte capita che questo simbolo nel trascinatore 3D sia anche più grosso del componente stesso perché può essere una piccola vite una rondella una piccola molla e quindi fatichiamo a vederla altra tecnica per muovere il componente rispetto all'assieme è quella di usare è una tecnica più vecchia che risale alle primissime versioni anche di Pro Engineer e si effettua premendo CTRL-ALT tasto centrale per la rotazione del componente oppure sempre CTRL-ALT tasto destro per lo spostamento del componente queste due tecniche sia chiaro servono unicamente ad avvicinarsi il componente in una posizione più comoda per poi definire i vincoli di assemblaggio sul primo componente in realtà noi andiamo a definire un vincolo di default cioè facciamo in modo che il sistema di coordinate del componente vada a coincidere con quello dell'assieme accendo i sistemi di coordinate spengo il trascinatore 3D perché altrimenti non si vedono bene questo è il sistema di coordinate della parte questo che purtroppo non si vede benissimo è il sistema di coordinate dell'assieme cerco di andarci sopra così si preseleziona e forse lo vedete un pochino meglio come si definisce questo vincolo di default? in vari modi o da questo menu con il fulmine dove c'è scritto automatico andiamo a scegliere default oppure stesso menu presente nella finestra posizionamento andiamo a scegliere sempre default oppure se volete essere un pochettino più smart un pochettino più veloci tenete premuto il tasto destro del mouse vi si apre un menu contestuale e scegliete vincolo di default appena definiamo completamente i vincoli del componente il componente diventa giallo e questo giallo sta a indicare appunto che è completamente vincolato come indicato anche nella finestra di stato che vediamo qua e quindi abbiamo fatto per il momento un buon lavoro e quindi possiamo confermare in realtà sappiate che non è necessario confermare completamente un componente possiamo anche lasciarlo labile o parzialmente o totalmente per poi definire poi successivamente dei vincoli il mio consiglio però è di vincolare se possibile completamente tutti i componenti uno per uno perché eventuali labilità che noi ci dimentichiamo potrebbero poi causarci dei comportamenti instabili anomali e poco comprensibili nelle successive fasi dell'assemblaggio ovviamente quando abbiamo vincolato un componente e abbiamo confermato l'operazione di vincolaggio passatemi il termine il componente riprende il suo colore originale se ci siamo dimenticati di definire qualche vincolo è sufficiente selezionare il componente e fare modifica definizione e quindi ritorniamo dalla situazione di prima dove possiamo cancellare i vincoli che abbiamo definito per definirne di nuovi però in questo caso lasciamo tutto così com'è e riconfermiamo ok andiamo a definire velocemente l'assemblaggio di un secondo componente quindi di nuovo assembla scegliamo il componente gli diciamo apri e a questo punto ce lo troviamo all'interno sempre di colore viola ce lo avviciniamo io uso il control alta il tasto centrale scusatemi il tasto destro per avvicinarmelo un po' in posizione anche se molto spesso è una posizione relativa alla mia visuale non è detto che quel componente sia realmente vicino a quel cubo potrebbe essere molto più in profondità all'interno della mia finestra però iniziamo subito a definire i vincoli in questo caso non usiamo il vincolo di default perché non vogliamo allineare il sistema di coordinate di questa parte con quello dell'assieme anzi i sistemi di coordinate li spengiamo ma vogliamo definire dei vincoli totalmente diversi per definire dei vincoli diversi è sufficiente in realtà selezionare ogni volta le due coppie scusatemi le due superfici le due geometrie che vogliamo accoppiare che vogliamo vincolare l'una all'altra e lo facciamo in sequenza quindi due geometrie per il primo vincolo successive due geometrie per il secondo vincolo successive due geometrie per il terzo vincolo non c'è bisogno di fare molto altro non c'è bisogno neanche di scegliere preventivamente il vincolo perché in base alle superfici che selezioniamo e creo a proporci il vincolo più adeguato e eventualmente facciamo solo dei piccoli cambiamenti rispetto alla scelta che ci propone lui quindi definiamo il primo vincolo selezioniamo questa faccia giro il modello seleziono quest'altra faccia le due facce evidentemente erano molto vicine ad essere complanarie e mi propone in effetti un vincolo di coincidenza quindi vuol dire che appunto le due facce in questo momento sono complanari sono vincolate ad essere complanari vi faccio vedere che se accendo il trascinatore 3D quel grado di libertà più altri gradi di libertà che adesso non hanno più senso di esistere sono grigi sono rappresentati nel trascinatore 3D con un colore grigio chiaro quasi bianco quindi vuol dire che quei vincoli sono stati bloccati in effetti al momento possiamo solo trascinare in questa direzione o in questa altra direzione il componente e ruotarlo in questo senso andiamo a definire un secondo vincolo a questo punto non devo far altro che selezionare un'altra coppia di elementi quindi questa prima superficie questa seconda superficie in questo caso mi propone un vincolo di distanza ma volendo da questo menu o anche da questo menu posso scegliere il vincolo coincidente di nuovo adesso mi rimane questo vincolo qua da definire e in questo caso ne approfitto per mostrarvi una tecnica un pochettino più avanzata per la scelta di superfici o geometrie che in realtà non vedo in questo caso io vedo unicamente questa faccia e quindi la vado a selezionare quindi questa faccia la vedo quindi la seleziono immediatamente mi serve selezionare la faccia che sta dietro a questo punto dello schermo lui in realtà mi sta preselezionando la faccia visibile del cubo ma a me mi serve la faccia che sta sotto quindi relativa alla sede che sarebbe sostanzialmente questa che vediamo qua la siamo in questa situazione quindi vado qui con il mouse e vi mostro una tecnica un pochettino più avanzata ovvero basta fare un click col tasto destro e lui mi mostra la possibile preselezione successiva quindi la faccia nascosta che sta dietro a quel punto nello schermo dove ero con il mouse quando mi mostra la faccia che mi interessa perché in realtà io potrei continuare con il tasto destro a clicchiare finché non trovo quella che mi serve trovato quella che mi serve la confermo con il sinistro e mi viene definito il vincolo di nuovo in questo caso mi propone correttamente vincolo coincidente quindi non devo fare nessun tipo di intervento a questo punto l'assemblaggio di questo oggetto è completato mi dice completamente vincolato e quindi confermo la conferma ricordatevi anche qui la posso dare col tasto centrale del mouse appena un oggetto è stato completamente vincolato e assemblato mi viene mostrato con il suo colore originale che in questo caso è un giallo molto chiaro per questo primo video in cui vi ho dato già tanti concetti è tutto vi saluto e ci rivediamo al successivo video in cui andrò a assemblare gli altri componenti di questo giocattolo per fare una serie di esempi che ci consentiranno di comprendere meglio appunto i vari vincoli che possiamo definire quindi per ora è tutto chiudo il video e vi abbraccio ciao